Tempus Fujit, il tempo è prezioso. Chi insegna sa che i contenuti da trasmettere sono tantissimi e il tempo non basta mai. Per fare tutto si rischia di dedicare davvero troppo tempo alle spiegazioni in classe a scapito dell'attività di didattica attiva e del protagonismo degli studenti. Se una magia ti permettesse di ridurre al minimo la spiegazione in classe, pensa a tutte le bellissime cose che potresti fare con i tuoi allievi. Per questo c'è la Flipped Classroom. La Flipped Classroom, detta anche classe capovolta, è un approccio didattico basato sull'inversione della scansione temporale della didattica tradizionale. Nella didattica tradizionale il docente introduce nuovi concetti in classe e rimanda lo studio individuale e la rielaborazione al lavoro a casa. Nella Flipped Classroom il docente fornisce materiali di studio, quali videodocumenti saggi, da studiare a casa prima della lezione e dedica il tempo in classe ad attività finalizzate alla rielaborazione dei contenuti. In una classe capovolta il tempo in aula può essere usato per attività di cooperative learning, project-based learning o qualsiasi altra metodologia in cui gli studenti hanno modo di confrontarsi in maniera attiva e collaborativa con i contenuti proposti. Il docente può fare da tutor, girare tra i banchi, facilitare il lavoro di gruppo e aiutare chi è più in difficoltà. Tra i materiali da studiare prima di venire in classe spiccano per efficacia i video. Infatti, rispetto ad una tradizionale lezione frontale, un video offre allo studente la possibilità di procedere alla propria velocità, guardando più volte lo stesso passaggio se necessario o saltando in avanti se tutto è già chiaro. A casa la Flipped Classroom sviluppa l'autonomia degli studenti perché questi diventano registi dei tempi e dei modi del proprio apprendimento. In classe permette di dedicare più tempo possibile alla didattica attiva. Infine, la Flipped Classroom permette di cambiare il rapporto tra studente e docente. Il docente, infatti, diventa un alleato, un prezioso supporto e un facilitatore. La Flipped Classroom è un valido strumento di inclusione. Permette a ciascuno studente di affrontare nuovi contenuti con i propri modi e i propri tempi. Dà inoltre modo ai docenti di dare supporto particolare a chi lo necessita in classe. Ciò molto più di come potrebbe se fosse impegnato in spiegazioni frontali. Grazie per la visione!